Ciao ragazzi salve a tutti bentornati in questo nuovo video dove andremo a vedere come portare avanti marketing senza stress non ho potuto fare gli altri video ragazzi perdonatemi andiamo a vedere come portare avanti l'incarico spicca un volo di 3 secondi ai comandi di un motoscafo andiamo a pingare nella posizione che vi sto facendo vedere sulla mappa e andiamo a vedere cosa fare scendiamo quindi dal nostro deltaplano saliamo subito sul nostro motoscafo andiamo dritti davanti a noi sulla roccia che ci si pone davanti date una sparata di gas per andare fino in alto sparatolo tutto adesso ed ecco qui che grazie all'ascensione dei venti ragazzi riusciremo a stare fino in alto per più di 3 secondi eccolo qui spiccavolo 3 secondi ai comandi di un motoscafo in carico completato bene ragazzi la missione è stata veramente semplice facile qui è il modo per farlo nel modo più veloce possibile spero che il video vi sia piaciuto un bel mi piace iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima missione grazie a tutti